Di fronte all'aggravarsi dell'epidemia di Ebola, desidero esprimere la mia viva preoccupazione per questa implacabile malattia che sta diffondendo specialmente nel continente africano, soprattutto tra le popolazioni più disagette. Sono vicino con l'affetto e la preghiera alle persone colpite, come pure ai medici, agli infermeri, ai volontari, agli istituti religiosi e alle associazioni, che si prodigano eroicamente per soccorrere questi nostri fratelli e sorelle ammalati. Rinnovo il mio appello affinché la comunità internazionale metta in atto ogni necessario sforzo per debellare questo virus, alleviando concretamente i disagi e le sofferenze di quanti sono così duramente provati. Vi invito a pregare per loro e per quanti hanno perso la vita.